E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi torna il nostro consueto Morning With Crypto l'appuntamento che ci accompagna dal lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte andremo ad approfondire il caso Ethereum perché ragazzi bisogna parlarne Non sono in tanti che continuano a parlare di questa situazione ma è importantissimo perché arrivano parole molto interessanti da parte di JP Morgan parleremo di Alving parleremo di mercato perché il prezzo sembrerebbe intenzionato a esplodere e cercheremo di capire appunto quali possono essere i target e soprattutto qual è la probabilità insomma di accadimento di questa situazione ma come sempre prima di partire il mio invito è uno così lasciamo un mi piace iscrivetevi al canale con il clic sulla campanellina prima non è sempre aggiornato insomma lo sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo e appunto dato ovviamente un'occhiata ai link con le promo che trovate qui sotto in descrizione che sono i principali del settore insomma grazie chiaramente al vostro supporto e noi partiamo partiamo dal appunto da questa questione SEC contro Ethereum ETF praticamente si è esposto JP Morgan in una maniera molto interessante a mio parere che è esattamente ciò che penso anche io e quindi ho deciso di portarvelo anche perché chiaramente dà un po' valore alla nostra idea di base ovvero vi leggo poi il virgolettato in modo tale che capiati di cosa parliamo se non ci sarà un'approvazione del TF spot in maggio allora possiamo assumere che ci sarà un processo appunto dopo maggio di litigation quindi di contrasto e quindi di contestazione di questa cosa e questo appunto arriva da il managing director e global market strategist di JP Morgan proprio perché dice pensiamo appunto che lo scenario più probabile sia che la SEC perda eventualmente questa contestazione quindi una potenziale causa ok nel fatto che l'ETF deve essere approvato perché non ci sono elementi per respingerlo dice in modo similare a quello che è accaduto a Grayscale con Grayscale e Ripple nelle battaglie legali dell'anno precedente e questo significa dice che eventualmente la SEC quindi andrà di conseguenza ad approvarlo ma appunto non dice dice non penso molto prima di maggio siamo ad aprile ok questa situazione qua è molto interessante proprio perché è uno scenario avete un puzzle ovviamente complesso da decifrare nel senso che la SEC si trovava davvero secondo me in una condizione molto difficile molto di spalle al muro perché viene da sconfitte una dietro l'altra anche l'ultima appunto con Coinbase per quello che riguarda appunto l'offerta di securities sul territorio degli Stati Uniti che non trovano accoglimento da quella che è la legislazione e di conseguenza bisognerà capire quale sarà l'approccio che avrà con Ethereum perché sa già che se non andrà in un'approvazione arriveranno le contestazioni e in mezzo c'è anche BlackRock di cui abbiamo già parlato più e più e più volte quindi insomma lascio anche a voi un po' ragionare su questa faccenda però è ovvio che sembra quasi una scelta obbligata probabilmente andare in approvazione e un ETF approvato su Ethereum potrebbe avere chiaramente effetti chiaramente dobbiamo valutare la domanda ma effetti molto 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 pesanti sul token e soprattutto anche sulla tipologia di tokenomics da Ethereum ricordiamoci che è deflattiva da quando è partito col merge in questo momento è deflattiva l'ho fatta vedere più volte quindi noi stiamo parlando principalmente di speculazione in questo caso di prezzo ma tenetelo bene a mente perché gli investimenti migliori che potete fare per voi sono rischio rendimento non sono solo rendimento perché se voi siete presi un rischio folle siete praticamente degli scommettitori d'azzardo non siete più degli investitori quindi insomma ragionateci sempre su questa faccenda perché secondo me vi aiuta anche perché il nostro soccorso e il nostro aiuto arriva anche l'Halving di Bitcoin perché è stimato per il 19 di aprile ok alle ore 1 di notte UTC il che ormai ci siamo ormai ci siamo e anche questa storia qua ragazzi di tutta quella ricordata narrativa che prima dell'Halving non si potevano fare il tema eccetera è stata sfatata proprio perché non abbiamo una significatività storica però l'orologio va avanti ok click clock no click clock no tic tac è l'orologio che cambina e ormai direi che ci siamo interessante volevo condividervi anche questa cosa di Fala Network che fa parte dell'universo di Polkadot perché sono andati finalmente dico finalmente non per Fala Network ma perché Polkadot ha sempre avuto un po' quel problema di seguire un pochettino le narrative ma con Fala sono andati a inserire quella che è una transizione diciamo da Fat Contract Artificial Intelligence Agent Contract ragazzi mattina anche per me AI Agent Contract che va nella direzione di inserire all'interno di questi smart contract renderli intelligenti quindi inserirci l'intelligenza artificiale sia in un'ottica di monetizzazione anche sia in un'ottica di adattamento e di maggiore diciamo adattabilità degli smart contract molto interessante magari vi lascio qua sotto in iscrizione il link o comunque lo trovate cercando su Fala Network perché proprio approfondiscono questa cosa di come appunto le DApps possano essere integrate con questa tipologia di contratti smart molto adattabili con l'intelligenza artificiale possano appunto dare maggiore utilità e maggiore valore a tutte queste implicazioni ovviamente se ancora non siamo ancora in una fase di avanscoperta una fase di capacità di partire con tutto questo però sicuramente è un futuro molto interessante dateci un'occhiata passando prima dei Gainsaw Losers vi ricordo appunto le promo esclusive di Afterside le trovate qua sotto vi lascio sempre il link di Afterside Exclusive oppure direttamente sotto i video di Youtube trovate tutti i link con le principali promo ripeto ce ne sono parecchie Bybit a partita da Bybit con l'air drop di 200 dollari quella di Bitget che sono 50 dollari scusatemi 100 dollari sì 50 scusatemi con deposito di 50 non 20 però appunto ve lo aggiorno quindi è migliorativa addirittura rispetto a quella che c'è scritta e insomma trovate veramente tutto qui sotto se volete è anche un modo per supportare il mio canale il mio lavoro totalmente gratuito andiamo a vedere quelli che sono i Gainers delle 24 ore troviamo Nio che si sveglia dagli inferi un più 40% Toncoin un più 26 Etena un più 17 Nervos un più 13 Phantom un più 11 Jasmine che fa un più 11 Teta un più 10 Lidlodau un più 10 Dogwith Hat più 10 WeChain più 10 davvero vedete tantissime Alcoin che festeggiano tra i losers nulla di particolare Wormall che deve trovare la sua dimensione Bitcoin Cash un meno 1 Core un meno 1 Amant no losers questo perché Bitcoin nella giornata di ieri ci ha dato l'idea di andare a breccare questo livello importante appunto della triangolazione che stiamo andando a osservare siamo stati tra i primi a disegnare questa figura sono contento appunto che poi un po' tutti si siano focalizzati su questa macro area proprio perché effettivamente era una compressione a tutti gli effetti e ripeto ancora una volta i 90k sembra un target folle e probabilmente e e e prima di tracciare qualsiasi cosa non sono consigli di trading finanziare stiamo fantasticando insieme sulle chart mettiamola così che stiamo giocando insieme quindi non vi azzardate lo so che siete già di pronti ma non vi azzardate a comprare vendere perché mi state ascoltando in questo momento perché chiaramente parliamo di probabilità ma diciamo che da un punto di vista i textbook di analisi tecnica proprio in maniera molto molto semplice dalla zona di break praticamente noi possiamo tracciare la base del triangolo e andare a darci dei target il target primario se ci fosse una sorta di ritest di questa trendline quindi ora il prezzo facesse una cosa di questo genere che in realtà l'ha quasi già fatta ok quindi un ritest e partenza non sarebbe tanto distante ragazzi dalla zona degli 85-86 mila dollari ok il target bene la stessa cosa vale sul ribassista che è proprio molto secondo me perfetto da leggere perché andrebbe guardate un po' dove in questa potenziale zona di accumulazione e di supporto ok una zona molto importante per il prezzo quindi sarebbe una zona di 50 mila ora lo so che sto dicendo o è bianco o è nero però a mio parere per il momento le probabilità rimangono molto probabili per l'app perché chiaramente più ci troviamo alti e più troviamo il prezzo aggressivo è importante appunto valutare entrambe le direzioni ma comunque insomma questo potrebbe essere un target in queste zone qua con anche probabilmente anche una potenziale euforia che potrebbe portare anche nella zona vicina ai 90k insomma cercheremo di capire se effettivamente potrebbe andare in questa direzione sicuramente abbiamo visto un grande incremento in quello che riguarda l'open interest guardate qua questa chart qui guardate proprio come è cresciuto al crescere del prezzo nella giornata di ieri e si è andato a liquidare un po' di short soprattutto in questa fase esplosiva nulla di particolare in realtà nulla di particolare e quindi a mio parere serviranno ulteriori volumi per confermare una move di questo tipo qua rimango sempre un attimino allerta ragazzi insieme a voi su quelli che sono gli halving e i sell the news perché potrebbe anche essere non dobbiamo mai escludere la situazione di trappole da tutto questo però sicuramente troveremo maggiore conferma della bontà rialzista del movimento una volta approcciati giusto per darci degli step i 73 set quindi i precedenti oltre mai se andremo a superarli con convinzione sono sicuro che le probabilità e quindi la nostra visione andrà in quella direzione là poi è ovvio che vi ripeto dipende quanto volete essere aggressivi voi cioè se volete essere più aggressivi potete già magari andare a posizionare un ordine sul ritest di questa di questa trendline quindi già ora potenzialmente non sono consigli di trading se invece siete un po' più conservativi potete aspettare il break magari dei 70 mila 73 mila e 5 con convenzione magari sui 74 74 e 5 per andare a giocarvi appunto un long che vada a sfruttare questo movimento esplosivo rialzista magari con volumi confermati spot ecco questa potrebbe essere una visione della faccenda altrimenti altrimenti appunto state fermi se non ve la sentite anche Ethereum ieri ha fatto un'ottima giornata è andato a recuperare questo livello che era importantissimo e non è molto ragazzi Ethereum fino ai 4000 dollari una volta che siamo tornati aggressivamente sopra la zona dei 3650 quindi tutta questa zona qua e quindi vedremo se anche lui andrà a completare un suo recovery con due double bottom e ripartenza insomma staremo a vedere anche questo la dominance in conclusione poi non voglio aggiungere troppo stanno lunghissimo sta andando a correggere e quindi vedete proprio più spazio su quelle che sono il settore delle altcoin detto questo ragazzi mi fermo davvero fatemi sapere anche voi cosa ne pensate sotto i commenti vi ricordo di iscrivervi al canale con un clic sulla campanellina per non essere sempre aggiornati lasciate un like arriviamo mille like e noi ci vediamo prestissimo con un prossimo video ciao a tutti ragazzi